vabbè io dico sfaccettatezza se non ti sta bene ti attacchi al cazzo è molto semplice la questione bro se non ti sta bene guarda che roba water absorb polyvrat brinalo 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 sir brinalo pare che questo è delle stats molto sontuose commosse giusto lilzone lilzone guarda che roba bro sto pokemon indovina un po' quante cazzo di mosse c'ha zero porco dio buone cioè ce n'è una buona che però è speciale mannaggia il clero zio per ante per anti per antibus dynamic punch pieron fist broken ah certo perché iterà spesso vero ho imparato under punch mi vado a fare una sega però zio cane ma faccio questo dai pulito capo maturo maturo pulito giù uno and we gonna ready burn 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 guarda che roba guarda che roba il quick attack più forte mai visto aia vado arima si deve beccano dina mi pugno matto Certo Due su due missati Il terzo almeno entra Oh Magnetta bomba non è male Cazzo Magnetta bomba è buona Oh È sontuoso magneta bomba Sta attento cazzo Non è iron head Ma Comunque è accettabile Magnetta bomba Non è male Pay attention Questo tira delle steccone Zio cane che Bella vanna Livstorm Fa un cazzo bro Spider web È una robata Abbastanza sontuosa Crobat si becca Magnetta bomba Sabbia tomba Magnetta bomba Se tu mi sabbia tombi E ti magneto bombo Come cazzo fa a resistere frate Me lo spieghi? Cioè È assurdo che resista È disgustosa sta roba bro Veramente che sfiga però Ragazzi Minchia Minchia Unc'e 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 Non ho la cura a un cazzo Purtroppo A parte che Sono già In realtà Non ha senso dargliene Non posso tirare la lemon Da 19 Siccome la devo gridare Eh vabbè Sono morto Viene a far quick attack Sul serio Su ogni pokemon Non mi puoi curare Vero So Schmeldi o cane Però Che sfiga ragazzi Mi 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 First Che cazzo Fa pure Oh Merda Vediamo Il nostalgico Si becca Ah beh certo Stabata Mi pare anche giusto Mattone però eh Is still in the game E ha steccato il groffiani Il tangroffiani Tangroffiani Dodged Easily No 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 Eh sono morto dall'ultimo Vero Madonna mattanza bro Da parrati Abbiamo fatto il bosco Mattanza questa eh Eh no Questa è mattanza pura Questa è mattanza pura Però se posso Eh sì Questa è mattanza pura Qui gli headers Devono Sono obbligati a Rosicare un pochino Ma ci sta Ci va bene così Succede Succede Per la prima volta In vita mia Devo concordare con te Che non hai scritto Una cazzata È assurdo Se ci penso Sono morto Certo che beccare Il primo Pokemon che Ti roba in sto modo Fa più della Ah certo Ma crittato Liocane E i giga counters Stiamo beccando contro Io la provo una pozza Lui ci avrà sicuro L'attacco terra Perché tanto così Deve essere Vero Dinami pugno Godo allora Figlio di puttana Lurida No no Anche in quarantena Ne facciamo una Al giorno Di doccia Bravo Entra o non entra Ma è sto cazzo Sì però Minchia bro Cioè ma è assurda Poison sting È una merda Fra C'ha 15 di power Fa schifo Dio Ovviamente Godo Madonna Me li sto ballando Tutti Sti cosi Me li sto ballando Tutti Ragazzi Mi pugno Qua Perché Devo ballarli Altrimenti È infattibile Merda 5 su 5 Entrati Pazzia questa Se posso Merda Pazzia Pazzia 5 su 5 Ballati 5 su 5 Entrati Mattanza Questa È Are you Talking now The letter Move to make Room For X Yes Because It covers Shedinja Broski Eh vabbè Ma ragazzi Non ci ho mosse Che cazzo Volete Non mi rompete I maroni Mi sono ballato Le mosse E' stato ricompensato Ma che cazzo Volete Ma scusa Voi avreste fatto Reset Se gioco meglio E' una colpa mia No table Che scarogna Questo era buono Un magnezzon pazzo E' una colpa mia Sire Sire Buono Chi mi paga La beta La beta Viene pagata Solo se Sangio Ne gift A 5 Altrimenti Non verrà pagata Se Sangio Ah no Non ha scritto In chat Sangio Oggi Cazzo Avevo detto Sangio Non so perché Flammare Uno a casa In chat Sono sbagliato Zio cane Eeeh Bella valla Prossima volta Firepunch Ma io vorrei Un Thunderpunch Con Thunderpunch Questo bro E' molto buono Anche nonostante Abbi la per 4 Terra Ti dico Enrique Iglesias Nanana Nananana 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 a terra per 4 a terra a terra mailando ci diamo la vabbè non è che ho poca difesa però glielo do sempre poca no per 49 al 27 è onesto però è sempre da dare iron giustamente però non è perché ho poca difesa glielo davo anche se ne avevo di più di difesa o di meno la 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 dio cane se non mi crita però lo doggio sicura lui? non mi ricordo è di facile bro cioè io sto quasi al 29 pre dungeon quasi al 29 pre dungeon non si è mai vista come roba bailando ma mi sa che non vai molto avanti con sto mon qui si se passo la terza palestra però bisogna pagare pegno poi c'è un mio mod che oggi stava aiutando un suo amico che fa il tecnico del suono un mio mod e ha detto che c'è xyuder che fa il batterista dove c'è lui era lo xyuderone quanto casa lo xyuderone è da xyuderone che becca maria sofia nesben un mio nesben ultimamente ragi che è impegnato con lui non è passato spesso però è nesben il mod questo è già una buona mossa comunque cover anche shi ninja tolgo x una buona mossa non è chissà che buona però comunque è fattibile cosa c'è c'entra c'erbi sta roba ragazzi scusatemi un attimo per favore la 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 merda se non entra sempre pazzia guardatevi una svegliata che leggo tante di quelle minchiate in chat che sareste da riformare un po' tutti secondo me HP up tornato pure Mattia Trice da Segoni Mattia Trice che è tornato su HS pazzesco Battlegrounds è una modalità di Heidi Airstone no 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 gioco di carta online più giocato al mondo per distacco vale pre mettiamo le cose in chiaro magnetabomba molto bene comunque un attimo Ale hai seguito un attimo la Super Kaizo che regole hanno cambiato ultimamente che hanno messo tipo giga assorbimento e robe così non banned ma tutte le mosse che curano solo alcune le hanno rese non non bannate pulbasaur certo che puoi riscattare una song con i punti canale o con i beats con i beats è via apprezzata con i punti canale un po' meno certe volte quelle con i punti canale non vengono messe perché c'è un errore di di sistema di solito con i beats invece si quindi vedi tu qui veramente grave la questione cazzo mi sono stato veramente mossi che ti curano e basta non legit ah quindi legit tipo solo giga assorbimento assorbimento ornelich forse c'era anche però faceva cagare in quella gen lì no? comunque tutte le regole ci sono solo che se ne hanno aggiornate ed è una roba che hanno cambiato più di recente quella quindi ero curioso di capire capito in teoria fa danno eh però non è un danno diretto mi sembra troppo rotto fa eh non lo so in realtà troppo rotto perché se dopo tu stecchi il pokemon in realtà non è neanche così forte contro il capo palestro quel che è insomma no? eh però sarebbe bello vincerlo prima di un americano la superkits e di far rosicare infinito lo raccontavo prima sapete che venerdì giovedì sera giovedì sera sostanzialmente il creatore della c'erano in colla tipo alle pre altri sul mio discord io stavo già dormendo me l'ha raccontato ieri e hanno scritto il creatore della superkits che è tipo thunder one dei superkits allora il creatore della superkits che è quello anche della kits è andato a vedere il mio canale dopo ha cominciato a controllare sia il mio canale che è quello di poli fa no no they are playing kits of five e ha cominciato tipo a mezzo flammare e così via tutto preoccupato però tutti immagina se la vinci prima di un americano questi vecchi impazziscono in questi giorni che arriveranno un botto di novità cioè ragazzi vi dico solo che se il medagliere vi è gasato come cosa che è stato è molto figo è tutto molto figo la roba che deve arrivare è cioè il medagliere moltiplicato per non so cosa gli annunci che devono arrivare cioè che gasano gasano molte di più almeno me è my dad speriamo di no eh ma davvero bro ma me la ridà la bacca ora no non mi ricordo water sport ma mamma mia che robberi però mi potete fare per favore un punto esclamativo bacca al volo sciarpedo minchia magnetta bomba dai ma discord mi sa che mi sta dando un po' di ok c'è castoro in call su discord da solo ah no è waze non è castoro cazzo scusa castoro non volevo offenderti ma tu ricapi allora merda il wazer ho sentito abbastanza carico già di mattina già di mattina presto dio buono ma io non capisco come non crepino c'ho un fracco d'attacco fra con una 90 power comunque cioè non è che gli sto facendo una mossa ridicola gli sto facendo la mossa una pazza dio cane mamma mia non ne sbaglia uno pazzia questa eh pensavi morissi da imposterli ma no attacco con priority e la vinco anche gli vorrei dare una berry potete fare un punto esclamativo bacca come abbiamo detto poco fa al volantium please devo vedere un attimo se l'acqua gliela posso dare o meno nauti nature nauti nature nauti confonde di okan ti pare che non c'ho sta sfiga assurda embarrassing stuff quella della difesa sono sono un mattone fra gli do quella della difesa ah certo primo pokemon già un tumor magneto a bomba lo sire 4x c'ha il piccione il piccione mattone c'ha la 4x hai capito aia che sfiga ragazzi comunque assurdo ma come fanno a resistere di okan incredibile bro è imbarazzante sta roba ragazzi pensavi morissi ma non è oggi quel giorno ragazzi i think comunque un sacco di pokemon che sono c'è un sacco di pokemon che sono full difesa fisica perché non esiste che resistano c'è una 90 power stab boh mi sembra assurdo vabbè lascia stare la 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 36 sembrava finita invece il colpo di renimato tenere la speranza tenere la speranza viva la la nananananananananananananananana eh il tipa non c'è chiedere troppo probabilmente sì perché saremo molto scomodi qualora lo imparassimo e mi sa che è una scomodità che non vogliono quindi ti dico probabilmente sì la 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 nananananananananana ma l'ha fatto tutto sì si dottor moro certo nell'hall of fame certo certo sai che cazzo mi è venuto in mente assurdo c'è il pezzato clamoroso vai la zgonski ma che pezzato è questo mattanza assurda questa è o non è uno dei pezzi più belli degli ultimi anni è o non è uno dei pezzi più belli degli ultimi anni ultimi anni ormai un po' più vecchi ultimi anni pezzato clamoroso fai bravo quenzo ti chiedo cortesemente di essere maturo a quenzo ma come funziona nella super calza tipo una certa a una certa vai avanti e lasci dei trainer indietro per prenderti poi l'xp con con i pokemon della della zona safari com'è che funziona esattamente ma da che punto in poi ciapu circa adesso domani la faremo mi sa la super calza domani lunedì insomma quando è godo servono mosse ragazzi ne abbiamo una buona di mossa magneto a bomba più una mezza buona che è stone age il resto è di mossa ne impara altre 6 di cui una al 39 se arrivasse un bel thunder punch devo prendere l'item prima ma c'è un scurde giù uno giù due madonna che entra dinamico un mio che goduri porca troia bro non è messo mezzo eruption merda eruption è una buona mossa meglio di qui cattac forse o no però la metterete la mettereste su qui cattac o no eruption questa è una bella domanda priority è mi importa il giusto il discorso quello perché c'ho infinito c'ho infinita speed quindi non è che mi serve il fatto che sia priority però magari sono pipì per qualche dungeon se nel mentre non imparo subito un'altra mossa può essere buona in quel caso hai capito you can be the best ma magari eruption la fai sul wall fisico fai eruption che almeno non missa era quello il discorso hai capito octillerion si becca stone edge nel chill octillerion si becca stone edge nel chilling nel chilling buono papa non 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 ma che cambiamo in grotta ma sei matto questo è buono meglio non rischiare effettivamente stanno anche a livello basso quando hai iniziato a streamare in modo fisso cioè la partner l'ha presi che era 2019 secondo me ma per riuscire in espansione di Airston streamai un po' andò parecchio bene però che ho iniziato a streamare proprio in modo fisso 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 per bene è stato inizio 2020 pp max non è male potrebbe tornare utile ma che under level da bestia sto over level delle due che under level sei matto non so mica mai under level devo fare tutto questo il dungeon la casa in alto staranno qua sono andato nel dungeon prima della seconda palestra perché ero quasi al 29 in realtà nel 2020 ho fatto un mese e mezzo parecchio buono che fu l'espansione di Airston che lì giocava lì veramente giocava il mondo zio cane lì giocava il mondo ad aprile avevamo fatto la card review da Atrix tutti il giorno dopo esce l'espansione è stata madonna quello lì per me è stato il periodo più bello di tutti assurdo è stato bellissimo col periodo lì ma anche il periodo Kites è bello però quel periodo là fu bello sei senza cura non l'avevo notato non l'avevo visto perché volevate vedere la grotta di Iglet volevate vedere volete vedere la grotta di Iglet non penso di cambiarlo però buon occhio ce lo diamo Galarog esatto Kingler bidone zio cane Kingler non lo prendo manco se mi paghi manco si evolve cioè culo manco si evolve fosse stato un Evo Arance avrei anche pensato ma Kingler manco si evolve puoi prendere chiunque se un Pokémon è Banned non lo puoi prendere ovviamente se tipo trovi Latios che cazzo ne so chi per lui non lo puoi prendere ovviamente sitting in a Hall of Fame a ver mañesta bómbalo si era mañesta bómbalo bene bella Clarranzio merda il Clarranzio si opera dai che sfiga che palle ragazzi non c'ho cura la parra è assurda sta roba non c'ho una cura la parra assurdo dai nulla non mi posso ballare sicuramente il trainer quello in alto quello in alto sicuramente non me lo posso ballare questo c'è da quanto tempo è ripassato qualche giorno fa quanto tempo è vero che su internet un giorno sembra eterno però mi sembra da dire da quanto tempo addirittura non penso di ribellarmi quello in alto perché c'ha 6 Pokémon attacco dopo ognuno di quelli amen sto fermo il Wazor è in colso Discord a Clarenzium sono passato per dare la buona Pasqua a tutti però la puoi dare anche senza le Caps te lo dico questo altrimenti ti becchi il Bane e te ne vai a fanculo fa il bravo buona Pasqua anche a te Clarenzium però molto strano che tra un pool così di persone a così tanti si è rotta la tastiera lo saprei chissà boh ah gli si è rosta in questo istante ai cristalli si vede che ha letto da qualche parte che le Clerc fa merda ha spaccato la tastiera dal nervoso ci può anche stare può succedere nel senso la vece 44 non ecco fa lo zone del Thunders Palestri Olsen vediamo buono io cane però mi sa che sto Pokémon non passerà la palestra no non penso passerà la palestra dal Gellicent di Renga che sei incazzato zio Pera ahhh 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 ahhh